Mi auguro che la nuova veste grafica vi piaccia, mi auguro che mettiate il like a questo video dove parleremo ancora di mercato e parleremo di quando arriverà l'Azetic, mi auguro che vi iscriviate ancora in tanti al mio canale YouTube, avete capito la mia linea, si può sbagliare ma non è lo YouTube dei clickbait questo, non è lo YouTube per cercare consensi e applausi, cerchiamo di dare la verità, si sbaglia, si sbaglia a volte ma si va, è un video, è un canale serio, serio come sono sempre stato serio io e mi auguro che soprattutto attiviate la campanella, la campanella che oggi vi dice che per quello che riguarda l'Azetic le ultime novità dicono, pensavo che arrivasse nel pomeriggio per le busy medic di domani mattina, questa era la voce di ieri notte, attenzione sembra che l'incontro invece sia programmato per domani, poi andrò a verificare nel corso della giornata con l'eventuale arrivo sperando che l'accordo sia trovato, ormai la Stella Rossa sembra che abbia dato la parola al Milan, la Stella Rossa non dimentichiamo che diede Dejan Savicevic 30 anni fa al Milan, ci auguriamo adesso un altro campione dalla Stella Rossa e dicevo, ha già dato parola, domani dovrebbe esserci la chiusura della trattativa, il giocatore dovrebbe arrivare, ma devo verificare e nel prossimo video su questo canale vi darò certamente ulteriori informazioni, penso proprio che il giocatore arriverà domani sera eventualmente con vice medica mercoledì, ma le cose stanno andando avanti, non forse non oggi, ma domani. Ma veniamo ancora all'annosa questione del difensore, ormai l'ultima volta che abbiamo parlato di percentuali vi avevo parlato di un 30 per nessuno, nessun arrivo, 30 per il giovanissimo, 30 per il giocatore fatto che non era però Botman, questo ve l'ho già detto da tempo, Bailey e Diallo, ancora impegnati in Coppa d'Africa, situazione complicata, non li danno in prestito, perché poi alla fine al Milan piacevano questi giocatori, ma se non li danno in prestito e il Milan e il Lille non accetta eventualmente di cedere Botman, la questione è già chiusa, non c'entra più il Milan, ma c'entrano le altre squadre, gli altri club che legittimamente hanno stabilito, hanno deciso di tenere i giocatori, eventualmente solo darli con un'offerta congrua per la cessione definitiva. E allora avevo detto 30-30-30, in questo momento lascio e sono ottimista ancora un 50 e un 50, il 50 per nessuno che arriva, quindi è salito, e 50 per il giovanissimo, o se preferite il 60, non arriva nessuno, 40 al giovanissimo. Io il giovanissimo, dato che ho un paio di idee, ho un paio di idee, ma che non mi sento ancora di rivelare giusto per tentare di dare un nome casuale, ho un paio di idee che aspetto ancora. Poi vi dirò chi pensavo che fossero, ma dei giocatori giovani, ovviamente molto giovani, già titolari nelle loro squadre, ma molto giovani. Vediamo, in questo momento penso proprio che il Milan con Calulu, che ieri è stato brillantissimo anche ieri, ormai Calulu, signori, non è più una riserva, è un cotitolare. Gabbia a cui verrà allungato il contratto e quindi penso proprio che il Milan vada a Tomori, rientra forse non con l'Inter, dopo la prestazione di Calulu può prendersela anche un po' calma. Ieri Calulu contro Morata e Di Bala, cioè non giocatorini, ma Di Bala, Morata, le incursioni di Quadrado. Non è stata una Juventus brillante, però bisogna sempre limitarli questi campioni, non sono giocatori normali, ordinari, sono campioni. E quindi Calulu se l'è cavata molto bene anche con lo stesso Kim, che ha caratteristiche diverse. Magari ha meno personalità dei campioni che ho appena citato, però è un giocatore che bisogna limitare perché è fisico, corsa e grinta. E dunque vediamo, se il Milan prenderà un difensore, soprattutto per farlo crescere, un altro aggregato alla prima squadra, più che un titolare, per poter andare avanti con Tomori, Romagnoli, Romagnoli buona prestazione anche ieri, autorevole. Tomori, Romagnoli, quando gioca Romagnoli siamo tranquilli, c'è qualcuno che trema quando gioca Romagnoli il capitano? Io proprio no, io proprio no. E quindi sono sul 60% il nessun difensore, il 40% il giovanissimo. Lo tengo ancora vivo, anche se le parole di Maldini ieri sono state abbastanza chiare. Quindi questo per quello che riguarda il mercato. Ieri per decisione tecnica non è stato convocato Castiglieco, non so se il giocatore ha squadre che possano essere interessate a lui o magari un modo di far capire al giocatore che magari vorrebbe orgogliosamente, ambiziosamente rimanere al Milan e questo è un fatto meritorio, fargli capire che purtroppo la strada del Milan, l'avventura del Milan sta per chiudersi. Ma veniamo a un bilancio della partita di ieri. Nel prossimo video, intorno alle 5 e mezza 6, vorrei parlare ovviamente di quello che potrebbe essere la partita con l'Inter. Intanto la buona notizia che mi è arrivata questa mattina, nessuna visita medica per Ibraimovic. L'infiammazione al tendine, la dolenzia possiamo chiamare. La dolenzia al tendine sembra che sia proprio figlia del terreno duro e di qualche dolore. Il giocatore magari ha voluto fermarsi prima di aumentare l'infiammazione, l'infiammazione è una brutta situazione perché arriva e poi per toglierla bisogna impiegarci giorni e giorni. Si vede che al primo dolore non ha voluto subito fermarsi. Parliamo di Ibra, mi diceva un collega, i tifosi cominciano a scaricarlo. Attenzione, i numeri sono ancora strepitosamente per Ibra. Ieri, se non si vuole essere prevenuti, tutti i colpi di testa, le palle alte sono tante tutte sua preda, fisicamente non lo sposta nessuno. In questo momento sembra che abbia perso un po' di, lo dicevo ieri, gioia di vivere, la sua solita grinta. Ieri non parlava con i compagni, sembra un giocatore preoccupato, un giocatore preoccupato per il futuro, preoccupato non so per che cosa. Dunque non ha la sua esuberanza psicofisica che noi siamo abituati a vedere. Quindi è un momento di difficoltà proprio su questo piano perché poi il giocatore arriva puntuale, l'abbiamo visto con lo Spezia soprattutto più che ieri, arriva puntuale alle conclusioni, si muove, però ieri ha subito iniziato un paio di errori e abbiamo visto neanche arrabbiarsi più di tanto. Probabilmente avrà bisogno forse questa pausa gli serve, vediamo quale sarà la situazione del suo tendine per la parida con l'Inter. Certo che la situazione di Pioli non è facile perché magari visto la condizione di Ibra, se Ibra vuol giocare è un po' complicato metterlo in panchina, parliamoci chiaro, un allenatore deve prendere le sue decisioni, però indubbiamente è il leader di questa squadra, è un leader e Alessandro Magno non viene messo, Ibra Magno non può essere messo da parte, però indubbiamente è da valutare soprattutto nella partita del dentro o fuori. La derby, l'ha detto ieri il signor Stefano Pioli, è la partita del dentro o fuori. Dentro vuol dire arrivare a un punto dall'Inter in caso di vittoria che poi deve giocare a Napoli. Quindi noi pensiamo sempre che se il Milan dovesse perdere va a sette punti dall'Inter che potrebbero essere dieci in caso della vittoria sul Bologna. Ma dobbiamo anche pensare che se il Milan battesse l'Inter e va a un punto dall'Inter e l'Inter pareggiasse lo potrebbe anche con il Napoli. Non è una partita facile per l'Inter che affronterà oltretutto il Napoli anche dopo la partita di Coppa Italia con la Roma e prima, probabilmente se leggo bene il calendario, se c'è proprio il 12 della partita contro il Liverpool, credo. E quindi un momento complicato e quindi il Milan potrebbe in caso di due vittorie andare davanti all'Inter. In caso di due sconfitte o di una sconfitta andrebbe a dieci, ma c'è anche l'altra possibilità. Studiamo anche la possibilità, studiamo anche l'altra possibilità. Quindi partita del dentro e fuori, il Milan per battere l'Inter deve giocare molto 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 meglio di ieri. Un Milan, ecco, sono d'accordo con Pioli, abbia perso un po' di spensieratezza. Non è più il Milan giovane senza una ruga, ha qualche problema. Ma sai, il Milan non è facile. Il Milan è sempre all'arrampicarsi. Gli infortuni, i giocatori che giocano sempre, poi arrivano queste mazzate improvvise dopo tre vittorie meravigliose che ti fanno ripensare. E sono stati due anni complicati per il Milan, perché arrivano sempre questi anni, poi riesce sempre a uscirne. Ieri battere la Juventus non era facile, la Juventus è messa lì. Non fosse la Juventus, ma fosse stata un'altra squadra, avremmo parlato in maniera elegante di organizzazione difensiva. La Juventus è stata lì, è stata brava, la Juventus ha i chiellini, lo stesso Rugani, che molti criticano. A me è un giocatore che sembra bravo e si è messa lì. Mettendosi lì la situazione ovviamente diventa complicatissima per il Milan. Dunque, un Milan che ieri non è riuscito a vincere, vediamo. È la partita del dentro e fuori. Dato che abbiamo parlato di corsi e ricorsi storici, abbiamo parlato di corsi e ricorsi storici, pensiamo anche che l'ultima volta, se non erro, che andate a vedere cosa è successo, l'ultima volta che il Milan ha giocato contro l'Inter dopo una pausa, dopo una pausa, una delle volte che ha giocato, io voglio ricordarmi quella, le altre se ci sono state non mi interessano, dopo una pausa ed era il campionato 2010-2011 con l'Inter vicinissima al Milan, l'Inter di Leonardo. Ricordate com'è andata, speriamo che vadano alla stessa maniera. Quindi, attenzione, voglio capire adesso il Milan che formazione metterà, una formazione che indubbiamente deve cercare di riuscire a fermare l'Inter e andare a un punto dall'Inter prima di Inter-Napoli e, scusate, Milan-Sandoria. Partita sempre complicata anche per il Milan, ma indubbiamente tra andare a Napoli e giocare in casa con la Sandoria, io preferisco giocare in casa con la Sandoria, sulla Canada. Quindi passa tutto da lì, perché battere l'Inter non sarebbe solo una questione di classifica, ma darebbe morale alla squadra. Però bisogna giocare molto meglio di ieri. Tanti giocatori alterni nel corso anche dei 90 minuti. Ma nel prossimo video voglio approfondire proprio la questione attacco.